Dati confortanti dal Covid in provincia di Salerno, quasi mille casi in meno nell'ultima settimana. Sono infatti 4.304 i contagi emersi nei primi sette giorni di marzo contro gli oltre 5.000 dell'ultima settimana di febbraio. Dati che confirmano il trend di calo della curva epidemiologica nell'ultimo mese. Il dato diventa ancora più confortante se rapportato allo stesso periodo del mese passato che ha fatto registrare circa 7.000 infettati in meno con 11.500 casi. Sono 590 intanto i tamponi positivi nella giornata di ieri in provincia di Salerno. A San Pietro Altanagro, nonostante questi dati positivi, c'è un piccolo focolaio nelle scuole. Infatti il Comune di San Pietro, guidato dal sindaco Domenico Quaranta, ha disposto per questa mattina la chiusura delle scuole del plesso di via Crosoleaia per un focolaio di Covid. L'amministrazione comunale ha infatti disposto la sanificazione straordinaria dell'edificio per un aumento di casi della popolazione scolastica, si legge sull'ordinanza. Per fortuna, da quanto è emerso, non ci sono problemi dal punto di vista del quadro clinico degli studenti. Nell'ultimo fine settimana si è anche registrato un decesso legato al Covid nel Vallo di Diano a perdere la vita una donna di 100 anni di Sala Consilina.